Ieri nuovamente per il secondo giorno non ci è stato consentito di accedere all'impianto. I nostri ragazzi sono rimasti fuori, pensavamo ed avevamo avuto anche rassicurazioni dallo stesso staff della progetto Sport Gestione Impianti che saremmo riusciti ad entrare. Il motivo del diniego dell'ingresso è una fantomatica mancanza di documentazione che secondo noi è carte alla mano, possiamo dimostrare che abbiamo fornito completamente anche in anticipo rispetto alle cosiddette date richieste dalla progetto Sport ma soprattutto anche pienamente conforme al contratto che abbiamo firmato entro la data prevista e quindi abbiamo seguito tutto l'iter di tutte le altre associazioni. La proprietà, i gestori delle piscine e le naidi sostengono però di non aver assolutamente impedito ai vostri ragazzi di entrare ieri? Sì, non è così. È ben diverso quello che è stato suggerito. L'amministratore Vincenzo Serraiocco, anche questo testimoniato da alcuni genitori presenti, ha chiaramente detto che i ragazzi potevano entrare essendo poi allenati dai tecnici della progetto Sport. In realtà è un invito a cambiare società, un invito palese che fra l'altro viola anche le norme federali. La progetto Sport sostiene poi che il vostro contratto sia stato firmato in ritardo? È così? Anche questo sono delle dichiarazioni fantasiose. Il contratto è stato inviato in data 7 ottobre e l'abbiamo firmato il 9. Quindi obiettivamente il contratto se ci fosse arrivato a giugno o a luglio, cioè in tempo per poterlo analizzare, avremmo fatto ben diversamente. Noi il 9 l'abbiamo rinviato quindi esattamente gli stessi giorni delle altre associazioni, ma come è possibile vedere dal contratto, addirittura abbiamo dovuto modificare un contratto intestato ad un'altra società. In realtà non ce l'hanno mai sottoposto quello calibrato per noi. È tutto corretto a mani proprio per dare la possibilità agli associati di entrare. Se no la prima motivazione sarebbe stata non avete il contratto non entrate.